Ciao, sono Luigi di Clarintux sul Tux e per sempre. Benvenuti in questo video. Come saprete mi sono fatto un server su un Raspberry Pi Zero a casa mia e oggi voglio raccontarvi un po' la mia esperienza non tanto dal punto di vista tecnico quanto piuttosto dal punto di vista delle reazioni della gente. Voglio raccontarvi un po' come reagisce la gente dopo che racconto quello che ho fatto. Allora intanto vedete qua a destra una sessione SSH, sono connesso al mio server e come vedete utilizzo come sistema operativo Debian, Debian 11. Tra poco dovrebbe uscire Debian 12, non penso di aggiornare subito, tanto Debian 11 è supportata fino al 2024. Allora, io da sempre ho sognato di ospitare, di ostare a casa un mio proprio sito internet in modo del tutto gratuito. Quindi la prima cosa che ho fatto è proprio questa, installare un server ngx per ostare questo sito che vedete a sinistra, Clarintux un Tux e per sempre. Lo utilizzo per, intanto per tenere traccia, per tenere un promemoria dei passaggi effettuati per installare il server e poi eventualmente per scrivere articoli vari. Quindi, la prima cosa che ho fatto è il server web. Poi, mi piaceva installare un server email, per quanto questa sia una cosa notoriamente complicata. E adesso che ci sono riuscito, posso confermare che effettivamente è una cosa complicata. Allora, vi mostro intanto vi mostro intanto lo status qua tramite SystemD del server ngx come vedete è attivo vabbè, lo vediamo anche a sinistra dal fatto che mi ha caricato il mio sito internet. poi vi mostro lo status di Prosody che è il server xmpp il server di messaggistica come vedete è anche questo attivo e lo status di PostFix che è il server email beh, insomma, il server email come ho detto è una cosa più complicata ci sono diversi pezzi che bisogna mettere assieme PostFix è solo uno dei diversi pezzi e niente non pensavo di installare anche un server di messaggistica xmpp alla fine ci ho voluto provare ho installato Prosody che è molto semplice in realtà è molto facile una volta configurato il tutto e visto che funziona tutto alla perfezione la messaggistica le chiamate audio e video il trasferimento dei file beh capirete che ho tutta l'intenzione di utilizzarlo quindi ho cominciato a proporlo a tutti i miei contatti ecco proprio di questo voglio parlarvi la prima reazione che ho riscontrato nella gente quando ho cominciato a parlare del mio server di messaggistica xmpp è stata ma perché? ora capirete che questa domanda non è tanto una domanda volta a scoprire le motivazioni che mi hanno portato a questa scelta quanto piuttosto una domanda che è sottendente ma chi te lo fa fare? perché non utilizzi whatsapp? esiste già whatsapp per messaggiare, no? ora questa domanda a me suona allo stesso modo in cui suonerebbe la domanda ma perché ti fai il pane in casa? esiste il supermercato? compratelo al supermercato, no? nessuno si sognerebbe di dire ad una persona che si fa il pane in casa beh, compratelo al supermercato se ti fai il pane in casa hai l'assoluto controllo della situazione sai quello che stai facendo come lo stai facendo ottieni sicuramente anche un buon risultato il pane avrà un buon sapore sei soddisfattissimo della cosa e non te lo compri al supermercato perché te lo devi andare a comprare al supermercato se te lo fai in casa bene, col server xmpp è la stessa cosa comunque ci sono motivazioni per preferire un proprio server di messaggistica xmpp rispetto ad esempio a whatsapp? beh, certo che ci sono con un proprio server la situazione è tutta sotto il tuo esclusivo controllo tu sai benissimo quale informazioni il tuo server registra quali no sai benissimo se queste informazioni vengono salvate ed eventualmente per quanto tempo oppure no non vengono salvate tu sei l'unico amministratore del tuo server quindi l'unica persona che può accedere a queste informazioni poche sono in realtà poche informazioni non ci sono intermediari nessuno può andare a spiare le conversazioni è tutto sotto il tuo controllo quindi la privacy totale assoluta poi, beh, cos'altro qualcuno potrebbe costruirsi un server xmpp per il semplice motivo che è un appassionato quindi per passione per hobby si costruisce un server xmpp detto questo per far utilizzare il mio server xmpp ai miei contatti ho cominciato ovviamente a consigliare un qualche client xmpp una qualche applicazione da installare che supporta il protocollo xmpp è chiaro che tra le varie opzioni ho vagliato esclusivamente opzioni open source nemmeno ho idea se esistono delle opzioni proprietarie comunque, nei miei test una delle migliori opzioni per Android è Conversations ora, Conversations è un'applicazione open source la trovi su fdroid vi consiglio assolutamente di installarla da fdroid sul Play Store invece la trovi a pagamento lo sviluppatore ti richiede un piccolo contributo ecco, sul browser a sinistra adesso vedete il sito di Conversations per quanto riguarda iPhone iOS non ho esperienza non ho potuto testare alcuna opzione non avendo un iPhone dalle mie ricerche sembrerebbe che la migliore opzione open source sia Monal l'ho iniziata a testare con un contatto che ha un iPhone e sembra funzionare insomma ma non ho una grande esperienza con Monal per quanto riguarda il desktop su computer invece la migliore opzione a me sembra Dino sì, Dino proprio Dino per per Linux adesso ve la mostro chiudo il browser apro Dino eccola qua è un'applicazione alquanto minimale in pieno stile GNOME non ci sono molte opzioni molte configurazioni possibili però funziona alla perfezione adesso vi mostro scrivo un messaggio scrivo un messaggio dal cellulare ecco che già mi compare che sto scrivendo ed ecco qua mi sono ho scritto ciao adesso rispondo ciao 2 va bene Dino supporta conversations d'altronde supporta la criptografia tramite OEMO quindi i messaggi sono criptati lo vedete anche qua dal lucchetto supporta il trasferimento di file tramite HTTP se è il server ovviamente a supportare la cosa e supporta le chiamate come vedete qua sopra abbiamo l'icona della telefonata chiamate audio e video quindi Dino è un'opzione non dovete fare nulla non c'è nulla da configurare insomma dovete solamente registrare il vostro account sul server che volete ed iniziare ad utilizzarlo adesso esistono tantissime altre opzioni ovviamente tantissimi altri client XMPP c'è Gajim ad esempio c'è Pidgin che in realtà supporta diversi protocolli adesso se volete utilizzare Pidgin beh Pidgin non supporta per impostazione predefinita la criptografia ripeto Pidgin supporta diversi protocolli poi se volete estenderlo in modo particolare per il protocollo XMPP beh dovete andare ad installare diversi plugin e niente questo è tutto adesso cosa è successo beh alcuni dei miei contatti direi tanti dei miei contatti hanno iniziato a dire che non sono in grado di installare Conversations o un qualche altro programma non sono in grado di installarlo e di configurarlo a me la cosa è sempre un po' assurda perché in realtà non è una cosa complicata se riesci ad installare Whatsapp per dire non capisco perché non riesci ad installare Conversations comunque sia per tagliare la testa al toro ho implementato una soluzione da browser cioè ci si può connettere al mio server semplicemente dal browser senza installare nulla ecco qua una pagina sul mio sito che permette tramite converse.gs tramite javascript l'iscrizione la registrazione al mio server e quindi di chattare tramite browser non è richiesta alcun tipo di conoscenza basta andare giù su creare un account e quindi inserire semplicemente un username ad esempio prova e poi una password ed è fatta una volta creato questo account bisogna sempre aprire il browser internet andare su questa pagina inserire qua il tuo account il tuo username ad esempio prova qua la password e poi cliccare su login ed è fatta e quindi si può iniziare ad accettare tramite browser senza installare assolutamente nulla stiamo parlando di una soluzione assolutamente non ottimale e scomoda come cosa perché ovviamente bisogna sempre aprire il browser ed effettuare il login tramite questa pagina e poi non vengono supportate alcune cose tipo la criptografia tipo le chiamate tipo la registrazione di un vocale quindi assolutamente è un'opzione che a me non piace preferisco di gran lunga installare e consigliare una app tipo conversations comunque in questo modo ho torto di mezzo la scusa del fatto è non riesco ad installare conversations eppure ancora aspetto che qualcuno si regisse sul mio server stiamo parlando di un mio amico che ancora sta tergiversando non capisco cosa sta aspettando evidentemente non si capisce l'importanza di quello che sto facendo tramite questa soluzione tramite questa soluzione da browser pensavo di togliere anche di mezzo la scusa del fatto non voglio installare un'app aggiuntiva sul mio smartphone non mi fido di una app sconosciuta ecco ho una persona a me molto cara che dovrebbe fidarsi di me dovrebbe sapere che tecnologicamente sono molto più preparato di lei e quindi dovrebbe installare senza problemi Monal per iPhone è una persona che ha iPhone no non si fida perché Monal è un'app sconosciuta adesso siamo all'assurdo al paradosso di una persona che non si fida ad installare un'app open source e quindi risulta in pratica più paranoica di me stessa di me stesso che ho un proprio server xmpp e mi fido esclusivamente del mio server xmpp niente ho implementato questa soluzione anche per questa persona e no non va bene nemmeno questa opzione dico ma guarda io sto lasciando completamente whatsapp quindi non possiamo rimanere in contatto risposta beh ci sono gli sms e beh no gli sms non sono un'opzione paragonabile alla comunicazione tramite il protocollo xmpp quindi dico beh se il tuo problema è installare un'applicazione sconosciuta e tutti i miei tentativi di spiegarti come il tutto funziona e che ci si può fidare di una app open source non servono a nulla beh allora vediamo se sei disposta ad installare Signal Signal è un'opzione conosciuta ebbene finalmente questo mio tentativo ha funzionato quindi significa che con questa persona utilizziamo Signal dal mio punto di vista è una cosa assolutamente assurda perché con una persona forse la persona a me più cara non riesco a convincerla ad utilizzare il mio server e quindi non posso farmi il pane in casa con questa persona ma lo devo comprare al supermercato va bene stiamo parlando di Signal c'è da fidarsi va bene chiuderei il video ripetendovi che vi metto a disposizione il mio server XMPP per chattare tra di noi di cosa avete bisogno ve lo ripeto Conversations per Android Monal per iOS Dino per Linux eventualmente altri programmi come Pidgin Gajim insomma installate quello che volete oppure andate su questa pagina beh dovrei linkarla sotto al video in descrizione lo farò e qua dovete semplicemente scrivere un username e una password prima dovete creare un account e poi ogni volta vi loggate con il vostro username e la password una volta iscrittovi al mio server io riceverò una notifica che vi siete iscritti per favore scegliete come username qualcosa del tipo yt underscore e poi un vostro nome io preferirei che metteste proprio il nome il nickname che utilizzate su youtube in modo da riconoscervi comunque è importantissimo che iniziate con yt yt underscore e poi scrivete non lo so nome ecco su altri qua su questa pagina web su questo mio sito non dovete scrivere nient'altro su altri clienti xmpp di solito si mette appunto il nickname quindi yt underscore nickname poi chiocciola poi scriverete chat punto clarintux mail punto eu punto org scegliete una password e registrato un account sul mio server una volta fatto ciò riceverete un messaggio di benvenuto dove vi viene anche indicata una stanza in cui possiamo parlare di linux la stanza si chiama chat room e sta sul server conference punto chat punto clarintux mail punto eu punto org comunque vi viene specificata direttamente nel messaggio di benvenuto che riceverete va bene penso che sia tutto per oggi spero che il video vi sia piaciuto è stato anche un modo per me per sfogarmi un pochettino la situazione sembra un po' assurda però sapete come non tutte le persone sono tecnologicamente alfabetizzate c'è molto analfabetismo nel mondo della tecnologia però uno si sforza di offrire soluzioni a portata di mano di chiunque e anche queste soluzioni vengono ignorate ci si rimane un po' male e ci si rimane anche male se sono persone a te molto care va bene io vi saluto ci vedremo presto in un prossimo video ciao ciao